Nel mondo sfavillante dello spettacolo, alcune famiglie diventano simbolo di talento e successo, ma anche di dolore e perdita. La famiglia Carrisi, con Albano al centro di una carriera leggendaria, ha vissuto momenti di gioia incommensurabile ma anche tragedie che hanno toccato il cuore di molti. Oggi vogliamo esplorare queste narrazioni umane profondamente toccanti, cercando di comprendere come, dietro ogni grande storia, ci possa essere un insegnamento. Se anche tu credi in questa visione, lascia un like e iscriviti al canale per viaggiare insieme nelle profondità dell'anima umana. Tutto iniziò nel 1994, quando la famiglia Carrisi fu colpita da una nuvola oscura, la scomparsa misteriosa di Ilenia a New Orleans. Un evento che ha lasciato un vuoto pieno di domande senza risposta, scuotendo le fondamenta stesse della famiglia. Questa tragedia ci insegna quanto il dolore possa essere un crocevia, un momento che, nonostante tutto, può rendere più forti. Anni dopo, un altro episodio doloroso si aggiunge alla saga familiare. Iari Carrisi e Nike Rivelli, uniti dall'amore, affrontano la perdita di un figlio non nato. Una ferita profonda, un ricordo che il tempo fatica a sanare. Ma ciò che emerge è la forza di volontà di andare avanti, di superare il dolore condividendo la propria esperienza. Queste vicende ci dimostrano che nessuno è immune dalle tempeste della vita, nemmeno coloro che vivono sotto i riflettori. La domanda che ci poniamo è, credi che condividere il proprio dolore possa aiutare a superarlo? La famiglia Carrisi ci mostra che, anche nei momenti più bui, la condivisione e la resilienza possono accendere una luce di speranza. Che ne pensi delle vicissitudini che hanno segnato la vita della famiglia Carrisi? La loro storia di forza e resilienza ti ispira. Condividi i tuoi pensieri nei commenti e interagisci con la nostra comunità. Il tuo supporto è prezioso per chi, nonostante le prove della vita, continua a lottare. Le storie della famiglia Carrisi ci ricordano l'importanza di ogni momento vissuto e come, dietro ogni sorriso, possa nascondersi un universo di storie non raccontate. Se questa narrazione ti ha toccato, condividi il video, metti un like e iscriviti al canale. Unisciti a noi in questo viaggio alla scoperta delle sfaccettature della vita umana, ricordando che ogni storia ha qualcosa da insegnarci.